Chi vuoi? Uomini e donne, lo scontro con Emanuele Trimarchi e la scelta Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, Lorenzo Riccardi sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e donne, ecco cosa riuscirà a fare. Uomini e donne e il trono classico tornano in onda oggi, 15 gennaio, su Canale 5 con Lorenzo Riccardi ancora protagonista. Alto, Moro, barbetta incolta e un savo il feire di un uomo daltri tempi, questo arresto il corteggiatore già famoso tra il pubblico del programma e uno dei più combattuti protagonisti del programma. Sono ormai passati due mesi dallinizio del trono di Nilu Faradati e Sara Affifella, ma Lorenzo non ha ancora deciso chi corteggiare. Le due troniste, tra alti e bassi, continuano a portarlo fuori causando delle bere e proprie tensioni in studio con gli altri colleghi corteggiatori che non capiscono la scelta delle loro ragazze, cosa succederà ancora? Niente di nuovo, o quasi, se non fosse che Lorenzo uscirà nuovamente con tutte e due elettroniste e finirà per litigare, in studio, con la new entry e volto nuovo del programma, Emanuele Trimarchi. Dalla lite con Trimarchi alla scelta in esterna con Nilu Faradati. Il romano sembra già molto preso da Nilu Faradati e questo lo porterà a scontrarsi con Lorenzo che non gradisce proprio la sua presenza e nemmeno le parole che il romano ha usato nei suoi confronti. Come se non bastasse, Lorenzo avrà modo di uscire con Sara ribadendo il fatto che le sue parole sono pari a zero visto che poi in studio il suo sguardo dice tutt'altro, come reagirà la napoletana a queste parole? Sicuramente con il carattere fumanticno di sempre. Altra storia per Nilu Faradati. I due sono usciti insieme e Lorenzo si è detto sicuro che quello che provano quando sono soli è tutto dire su quello che provano. Sul finire dell'estern, Lorenzo annuncerà di aver preso la sua decisione e prega l'atronista di affacciarsi alla finestra, quale sarà il suo messaggio?. Ciao!